Inizierà il prossimo 11 maggio il processo a carico di Federico Ferrini, l'imprenditore casentinese reo confesso dell'omicidio di Maria Venazio de Sousa, la sessantenne brasiliana ritrovata cadavere lo scorso 26 agosto nel suo appartamento di Via della Robbia ad Arezzo. È stata infatti fissata la prima udienza di fronte alla Corte d'Assise. Il PM Chiara Pistolesi, una volta conclusa l'inchiesta, ha infatti chiesto il giudizio immediato senza passare così dall'udienza preliminare. Adesso la difesa avrà 12 giorni di tempo per studiare le carte e depositare la richiesta di rito abbreviato che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena. A Ferrini viene contestato l'omicidio volontario, dunque senza premeditazioni né aggravanti. Il decreto che dispone il giudizio immediato è composto da cinque cartelle che mette in evidenza quanto emerso sia dalle indagini della squadra mobile di Arezzo ma anche e soprattutto dalla confessione resa dallo stesso Ferrini di fronte al GIP Fabio Lombardo. Il delitto si consumò nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi quando Ferrini, con in mano una spranga, si presentò all'appartamento di Via della Robbia in cerca di un chiarimento con la sessantenne. Per l'accusa si sarebbe comunque trattato di un delitto di impeto nato nella concitazione della lite. L'omicida ha infatti sempre raccontato che la donna con la quale aveva avuto una relazione lo avrebbe ricattato chiedendogli denaro per non rivelare a tutti le sue frequentazioni con le prostitute. Il corpo senza vita di Maria fu trovato il giorno successivo riverso sul letto con la testa fracassata a colpi di spranga e con ancora un laccio legato attorno al collo. Federico Ferrini si trova recluso nel carcere a retino di San Benedetto da ormai sei mesi.